Buongiorno Eleonora Rocca, co-founder di Horizon Group e anche founder e managing director di Women for Impact. Un evento che è arrivato alla sua seconda edizione, con successo si è anche, come dire, ingrandito, rafforzato. Ricordiamo che si tratta di un evento che ha come obiettivo quello di valorizzare la figura femminile nel mondo imprenditoriale, dal quale ci arrivano però dei dati che dobbiamo tenere in considerazione, cioè comunque ci confermano i dati che soltanto il 28% dei manager e donne che per colmare il divario fra uomini e donne ci vorranno forse 132 anni. Intanto come mai è colpa di stereotipi, di azioni che vanno condotte anche, non so, a livello legislativo e comunque un commento su questo dato che è molto importante. Certamente, certamente. Allora, intanto grazie Eleonora per questo spazio che trovo molto interessante, proprio appunto per andare ad analizzare la situazione del mercato, come giustamente hai detto tu. Noi diciamo che come obiettivo appunto abbiamo proprio quello di migliorare questa condizione in generale, sia all'interno dei contesti aziendali, quindi all'interno di aziende più o meno grandi, sia all'interno, come giustamente dicevi, di contesti imprenditoriali, dove appunto nei board of directors, nei ruoli da C-level, purtroppo spesso, molto spesso troviamo principalmente uomini e in alcuni casi anche proprio 100% dei uomini nel board è proprio zero donne, no? Quindi, perché questo? Perché questo? Giustamente è giusto analizzarlo. Cioè, ci sono due motivazioni, secondo me. Da una parte c'è un tema social-culturale, social-economico, ok? Nel senso che chiaramente l'Italia, ma in generale io dico sempre l'Europa, perché io trovo che a parte gli Stati Uniti, che forse sono veramente un pochino avanti su questo tema, il resto dell'Europa si sta un pochino muovendo adesso, però per molti, molti anni diciamo che ci sono tutta una serie di convinzioni, di, come dire, convenzioni sociali, che in qualche modo sono già entrate nella nostra testa quando eravamo piccoli, no? Nel senso che è qualcosa che riguarda anche l'istruzione, riguarda appunto la parte sicuramente governativa e legislativa, cioè noi siamo cresciuti in una società patriarcale, ok? Quindi, da una parte c'è proprio un tema che io raccontico sempre, per esempio, cito sempre un piccolo esempio banalissimo che tutti possono capire. Se noi pensiamo a come sono i negozi di giocattoli nella zona uomo e nella zona donna, no? Allora l'uomo ha i supereroi, i bambini hanno i supereroi, hanno le macchine, hanno le cose sulla guerra, no? Cioè, quindi comunque che poi, vabbè, magari quello è un po' troppo violento forse, però insomma il tema è, loro hanno tutte queste cose che lì in qualche modo invitano a fare cose grandi, ok? A tirare fuori appunto la parte più bella, i superpoteri alla fine, no? I superpoteri in qualche modo. Nella parte delle donne ci sono le bambole, ci sono i ferri da siro, ci sono le cose per pulire, che voglio dire anche qua, noi per esempio ci facciamo molto portavoce del fatto che se una donna vuole davvero soltanto essere mamma perché sceglie la famiglia, assolutamente può farlo e nessuno sta dicendo che tutte le donne devono diventare manager o director o CEO, no? Nel senso non è questo un po' la nostra missione, è più che altro dire, deve essere una scelta, deve essere una scelta della donna, non imposta appunto da un contesto socioculturale che in qualche modo appunto parte sia a livello inconscio da queste piccole cose che sembrano piccole ma in realtà non lo sono, così come anche quando noi pensiamo i mestieri da uomo, i mestieri da donna, da bambine, c'è stato anche detto molto questo, no? E questo è il motivo per cui poi nelle facoltà di fisica, di matematica, di economia finanziaria, no? Di tutte queste materie, qua le famose STEM ci sono principalmente uomini. Allora, facendo un passo indietro poi per rispondere e chiudere un po' sulla tua domanda, dobbiamo sicuramente lavorare sull'educazione, dobbiamo lavorare sulla scuola, dobbiamo lavorare sulla divulgazione da un punto di vista socioculturale e dall'altra parte credo però che ci sia anche una responsabilità delle donne stesse, perché noi donne, poi ripeto non si può generalizzare, io parlo sempre per quello che noi vediamo, per quella che è stata anche la mia esperienza, no? Il mio percorso, trovo che noi donne in qualche modo ci autolimitiamo, un po' per il discorso della sindrome dell'impostore che è assolutamente una cosa reale, questo anche i dati lo dimostrano, no? E un po' anche perché non siamo abituate a pensare, come dico io, in maniera vincente. Cioè, la donna, anche questo è un altro dato molto interessante che secondo me per voi può essere interessante citare, è che le donne, quando devono candidarsi per una posizione lavorativa, se non hanno tutto quello che c'è scritto nell'offerta di lavoro, tendono neanche a mandare il proprio curriculum. ma mentre l'uomo si butta molto di più, come anche nel discorso negoziazione, io vivo a Londra tantissimi anni, anche qua ho letto tantissime report e ricerche che sono state fatte, anche qui la donna a parità di ruolo con l'uomo guadagna di meno. Perché? Perché quando va al colloquio a negoziare, tende a negoziare sempre a ribasso, perché non ritiene di meritare, no? Di più. E secondo me su questo devono lavorare proprio le donne, quindi l'altro motivo è anche che anche noi dobbiamo lavorare molto, studiare e imparare, tra virgolette, anche da loro, nelle cose che noi non riesciamo a fare. Chiaro. Beh, in questo senso possono essere utili, diciamo, gli esempi anche che ci sono a Women for Impact, perché ci sono degli esempi concreti, molte donne imprenditrici, manager italiane, non soltanto. Come si sviluppa l'evento? Vogliamo ricordare le date, il luogo e appunto come sarà strutturato, insomma? Certamente. Allora, 17, 18 e 19 novembre, al Figo Italy di Bologna, saranno tre giorni con quattro sale in contemporanea. Sì, come giustamente hai detto tu, il punto centrale sarà avere keynote speech e panel di discussione, quindi tavole rotonde a cura di diversi professionisti, diverse aziende, tante storie, tante storie di vita e di carriera. Avremo anche alcuni uomini sul palco, perché noi non vogliamo essere, come dire, fare una guerra uomini contro donne, riteniamo invece che è una conversazione aperta e degli esempi interessanti, no? Di rapporto uomo-donna possano davvero invece divulgare in maniera positiva e raggiungere, speriamo, insomma, un po' il risultato di cambiare in qualche modo la società, cambiare il mondo in positivo. Quindi avremo, sì, tante storie di vita e carriera, supportate da esempi pratici, perché come giustamente hai detto tu, bisogna dare degli strumenti pratici, nel senso dire, ok, voi siete diventate o siete diventati professionisti che siete oggi, ma il percorso non è mai semplice, no? Condividere solo il risultato e il successo, ok, è piacevole, però alla fine è come tu sei arrivato a quel risultato e come puoi condividere quel risultato per poter ispirare e formare altre persone. Quindi questo è quello che succederà nel main stage e sala 2. Poi nelle sale workshop, che invece sono due, saranno due, l'anno scorso era uno, anche qua siamo allargati, si faranno proprio degli esercizi pratici, quindi le persone verranno suddivise in gruppi, ci saranno dei project work, si parlerà tanto anche dei nuovi trend, dell'innovazione, quindi il design thinking, l'inner leader, inner e outer, avremo anche testimonianze appunto di donne che lavorano per grandi aziende, come Unilever, Amazon e quant'altro, che ovviamente possono portare anche il loro punto di vista un po' più anche internazionale, cioè sono italiane, però appunto magari vivono all'estero, lavorano in contesti molto internazionali, questo perché trovo che l'Italia abbia bisogno di role model e anche di best practice che arrivano anche dall'estero, non perché noi siamo di meno, tra virgolette, ma perché penso che la contaminazione, magari di cose che funzionano in altri paesi, possono essere in qualche modo applicate anche in Italia, ovviamente considerando anche le differenze di territorio, di cultura e quant'altro. Chiaro, una battuta finale, le aziende ci credono e la testimonianza sta nel fatto che ci sono anche più, come dire, main sponsor, no, quest'anno. Assolutamente, tanti sponsor, tante aziende come Eni, come Unilever, come Amazon, come Cisco, come SAS, come Sky, che hanno deciso di supportare l'iniziativa e questo secondo me è molto bello, ma perché? Perché dimostra che c'è un segnale positivo da parte delle aziende che vogliono concretamente fare qualcosa, perché insieme a loro, ecco, questo ci tengo anche a dirlo, noi abbiamo fatto percorsi, appunto, di accompagnamento all'evento, che però si sono riflettuti anche in progetti interni alle aziende. Questo perché? Perché vogliamo che non sia solo qualcosa che accade sul palco per tre giorni durante, no, un evento, una conferenza, ma che sia un lavoro che anche internamente alle aziende si continua a fare anche durante l'anno per riuscire, appunto, a valorizzare sempre di più il ruolo della donna e i suoi percorsi di carriera all'interno delle aziende. Ultima cosa che cito, ad esempio, anche una bella cosa che faremo con Mediobanca sarà dare loro uno spazio durante l'evento proprio per raccontare il ruolo, no, tutti i job titles, cosa si può fare all'interno del mondo finanziario, ci saranno i loro consulenti HR che saranno aperti a ricevere domande, ma anche a prendere candidature lì direttamente da donne che vogliano lavorare nel mondo finanziario, perché anche lì siamo resi conto che ci sono veramente trading floor banalmente di soli uomini con magari due donne su cento, ok, quindi c'è del lavoro da fare. Ecco, questo è un piccolo, come dire, hint di qualcosa di veramente concreto che comunque vogliamo fare, quindi le persone potranno consegnare il proprio curriculum, fare domande, no, rendere insomma il tutto anche praticamente raggiungibile, perché se no uno dice ok, sta sul palco, ok, la grande azienda, invece no, scendiamo tra virgolette anche dal palco, parliamo con le persone e cerchiamo di costruire opportunità. Chiaro, allora grazie intanto Eleonora Rocca, appuntamento a Bologna 17, 18 e 19 novembre. Grazie. Grazie a te, buona giornata a tutti. quindi, Grazie.